E sicuramente vincere non è mai facile, vieni qua per vincere ovviamente, però al momento in gara sono un po' bloccata, non sto scendo con me in allenamento, oggi l'ho sfruttata e mi ha data bene. Sono stata un po' più bravina prima dell'ultimo muro, perché lì c'era una doppia che scaricava tanto, io lì ho investito un pochettino poi per essere a tempo tutto il muro. In una giornata così bella per noi è un po' più un lato negativo, nel senso che la neve è piuttosto molle, hanno fatto un ottimo lavoro veramente oggi, perché ieri era quasi un po' al limite, perché c'era troppa neve fresca, oggi hanno fatto un buon lavoro e sicuramente ha tenuto molto molto bene.